Il mio nome è Alessio Burroni e sono il proprietario dell'azienda agricola Cadipesa. Ho capito di voler fare questo lavoro dopo qualche mese che avevamo incominciato a produrre il nostro prodotto e in un ristorante che fornivamo vidi un cliente degustare il nostro vino e la gioia e la felicità che aveva in viso è stata la sensazione più bella che abbia mai provato in vita mia. Essere a capo di un'azienda non è semplice, ci sono tanti impegni, tanti lavori dalla vigna, la cantina, l'amministrazione in questo lavoro dinamico e non statico, questo poter cambiare, poter interagire con le piante, col prodotto e con le persone. Il primo ricordo che ho di questo lavoro e di questa passione è di quando avevo all'incirca 4-5 anni e mio padre, mia nonna mi portavano in vigna con loro mentre lavoravano e mi mettevano delle piccole forbici a punta arrotondata cercando di farmi tagliare i grappolini più delicati, più piccoli e mi facevano riempire un piccolo panierino che poi sarebbe andato a contribuire con la vendemmia. Grazie a tutti.